umano. Qual è questa quarta dimensione del comportamento umano? È la dimensione giudizio percezione. Che cosa si intende con la dimensione giudizio percezione? Si intende questo. Questa dimensione diciamo si riferisce alle modalità con cui organizziamo la nostra vita fondamentalmente, i nostri comportamenti. L'esistenza ci pone sicuramente di fronte a degli stimoli quotidianamente e a delle possibilità e quindi dobbiamo fare delle scelte. Ogni giorno dobbiamo fare tantissime scelte. Non sempre facciamo le scelte in modo consapevole, anzi non sempre scegliamo consapevole di scegliere, ma la necessità di fare delle scelte anche talvolta banali, perché non è che poi si parla di chissà che cosa, provoca della tensione. Ogni volta che dobbiamo scegliere viviamo uno stato di tensione. Quindi per mantenere un equilibrio psicofisico, se vogliamo, dobbiamo scaricare queste tensioni, dobbiamo trovare un modo per scaricare queste tensioni. I tipi giudice, diciamo, scaricano tensioni attraverso decisioni rapide, evitando di soffermarsi troppo sulle cose. Troppo sulle cose. Una volta fatta una scelta, sono poco propensi ai ripensamenti. Non perché non l'abbiano ben imponderata, ma perché procrastinare, ritornare sulle cose, provoca uno stato di tensione difficile da gestire. Cioè i giudicanti, le persone giudice, tra virgolette, prendono decisioni rapide, proprio per scaricare la tensione dovuta al giudizio. Per sentirsi sicuri hanno bisogno di affidarsi a dei verdetti, che siano irrevocabili, di scegliere una possibilità o chiudersi tutte le altre. Questo è il fatto fondamentale. Cioè preferiscono fare una scelta, percorrere una strada, ma che quella sia. I tipi percezione invece devono lasciarsi aperte tutte le possibilità. Devono esplorare l'ambiente prima di fare delle scelte e quindi per loro, al contrario dei giudici, i tipi percezione, la tensione aumenta se fanno scelte nette. Loro vogliono sempre lasciarsi aperte tutte le strade, anche da un punto di vista sentimentale effettivo. Le persone giudice si scelgono una persona, magari anche quella sbagliata, ma fanno una scelta e chiudono tutte le altre strade. Mentre le persone percezione si tengono aperte tutte le porte. Sì, magari stanno con una o con uno, però non chiudono alle altre possibilità. C'è se possono se lasciano aperte. Quindi anche nelle relazioni sentimentali effettive noi notiamo che le persone percezione, ad esempio, non chiudono mai le relazioni definitivamente. Si lasciano sempre aperte delle possibilità, cercano sempre di osservare bene l'ambiente prima di fare delle scelte. Invece i giudici fanno scelte nette. Si chiedono qual è l'opzione migliore e poi perseguono una strada. I tipi percezione, diciamo, fanno esattamente il contrario. Questo è dovuto proprio alla tensione ansiosa da scaricare. Quindi, come possiamo dire, per scaricare la tensione i tipi percezione devono esplorare a fondo l'ambiente, essersi sicuri di non lasciarsi sfuggire niente, soprattutto particolari importanti, di osservare a lungo quello che sta succedendo prima di prendere una decisione. Cioè, e questo è fondamentale. I tipi percezione sono quelli che tentennano, ad esempio, sulla scelta del ristorante, valutano varie opzioni, ne propongono una e poi ne propongono altre. Cioè, non sono mai indecisi, sono sempre un po' indecisi, diciamo così. Propongono tante alternative, magari una volta vanno da una parte, una volta vanno dall'altra, cambiano spesso. Mentre il tipo giudice ha deciso che quel ristorante lì è il migliore, per fare un esempio, e non ci sta più a pensare. Tutte le volte, per dire, mettiamo che uno vada al ristorante al sabato sera, facciamo un esempio. È il tipo giudice, quello lì è il ristorante migliore, ho deciso che quello è il migliore, vado lì e poi mi tolgo perché solo l'ansia di decidere mi genera, diciamo, stress. E quindi ho deciso, una volta per tutte, quello è il ristorante migliore, poi prima che lo cambio. Mentre invece il tipo percezione gli dà fastidio aver fatto una scelta. Lui vorrebbe fare tutte le cose contemporaneamente, vorrebbe tenersi dieci fidanzate contemporaneamente, vorrebbe, insomma, e quindi magari un giorno vada uno, un giorno vada all'altro, tiene aperte tutte le possibilità, tutte le alternative. Tentennano, valutano varie opzioni, ne propongono una, poi ne propongono un'altra, hanno sempre alternative, trovano sempre qualcosa di meglio e passa molto tempo a decidere perché la loro parte emotiva gode nel decidere, cioè nel prendere tempo nel decidere, soffre la decisione presa, viceversa i tipi giudici. I tipi giudici propongono un'opzione e raramente ne le propongono una seconda, questo è un dato di fatto, spingono gli altri a prendere una decisione rapida, si spazientiscono, quindi anche nella seduzione se hai a che fare con un tipo giudice devi essere deciso, rapido nelle decisioni. Se invece, se sei un tipo percezione, puoi prenderti le cose, diciamo, in modo più alla larga, insomma, prendendoti più tempo, prendendoti più spazio. Questo è un po' il concetto fondamentale. Poi una volta arrivati al ristorante, il tipo giudice non perde tempo a studiare il menù, piglia le decisioni, voglio il risotto, voglio questo, voglio quello. In 448 ha deciso cosa mangiare. Il tipo percezione, se avete il ristorante, invece è uno che ci pensa 50 volte, si fa consigliare del cameriere il miglior piatto, ordina una portata magari con delle varianti, perché dice no, sì, mi piace quel piatto, lì il risotto, ma i funghi, forse è meglio metterci questo, mi fa modificare il piatto, rompi i coglioni da quel punto di vista lì, il tipo percezione al ristorante, è un rompi i coglioni. Risotto ben mantecato, non so cosa vuol dire mantecato, comunque rompono il cazzo, diciamo, dal punto di vista quando interagiscono con gli altri, perché magari si fa prescrivere il menù, poi dopo 5 minuti dopo richiama il cameriere, gli dice che ha cambiato idea, no, scusi, ci ho pensato, ma sì, forse a posto del risotto vorrei, che ne so, i ravioli, sa, perché ci ho ripensato bene, però non con il ragù che c'è scritto nel menù, perché il ragù per me è un po' pesante, magari mi faccio i ravioli con, che ne so, il sugo di pomodoro, che ne so, oppure, insomma, comunque hanno, sono sempre un po', appaiono indecisi, ma in realtà vogliono mantenersi aperte tante strade, insomma, poi alla fine se possono, se li mangiano un tè e due, dicono, guardi, ho deciso, ci ho ripensato, una terza, scusi, mi faccia un piattino diviso in due, dove ci metto un po' di risotto e un po' di ravioli, per dire, una porzione divisa in due o in tre, e insomma, alla fine odiano prendere decisioni, fondamentalmente, amano tenersi aperte tutte le possibilità. Beh, i giudicanti sono più sicuri da un certo punto di vista, i giudicanti sono più sicuri dal fatto che, diciamo, prendono una decisione, ma prendono una decisione rapida anche per insicurezza. Hanno sicurezze, hanno sicurezze diverse, fondamentalmente. Anche qua, ovviamente, giustamente, ci deve essere un equilibrio, no? Ci sono, però, ovviamente, una persona totalmente giudicante è un carter piller, decide in 448, una persona totalmente, diciamo, percettiva, non prende mai giudizi, non prende mai scelte, non fa mai delle scelte, quindi noi siamo sempre dei cappuccini. Però una delle due opzioni tende a essere prevalente sull'altra. Quindi, per i giudici è fondamentale mettere ordine nella propria vita e per i tipi percezione è importante mettere disordine nella propria vita. Quindi, come dire, lasciano tantissime porte aperte, non finiscono mai le cose, insomma, e hanno un po' questa differenza di modus operandi, insomma. Quando si tratta di valutare l'atteggiamento di fronte a scelte importanti, non sempre è facile distinguere qual è la modalità prevalente. Un tipo percezione, ad esempio, se ha forti interesse degli obiettivi fondamentali, cruciali per la sua vita, tenderà a, diciamo, qualche volta a utilizzare anche la modalità giudicante in alcuni ambiti. Se ha la vocazione, diciamo, ad esempio, anche un tipo percettivo, se ha una vocazione, difficilmente sceglierà un'altra strada, perché deve però avere una vocazione, cioè il tipo percettivo, per dire, nella scelta degli studi. Se lui ha la vocazione di fare l'architetto, farà l'architetto comunque, non è che resterà indeciso, però magari all'interno della facoltà di architettura sarà indeciso tra, che ne so, un programma di studi, per dire, che prevede l'architettura di interni piuttosto che costruire ponti, facciamo un esempio, no? Cioè, non è che il percettivo, dicevo, non segue una sua vocazione, una sua strada. Però, diciamo che, mentre il giudicante non è che resta, che decide anche scelte importanti in 448, tipo la scelta universitaria, anche il giudicante ci metterà un po' di tempo. Però, come dire, anche se non ha vocazioni, farà comunque una scelta e scherterà tutte le altre. Mentre invece il percettivo, se non ha vocazioni particolari, beh, sarà, avrà difficoltà a scegliere, metterà tempi molto più lunghi. Il tipo giudicante difficilmente si mostrerà indeciso se andare al cinema, al concerto, da qualche parte. È ovvio che anche il tipo percettivo, se, come dire, se quella sera lì c'è il concerto del suo cantante favorito, mettiamo Vasco Rossi, lui è un fan sfegatato di Vasco Rossi, non è che dice, beh, andrò a sentire Vasco Rossi o a vedere il film per fare un esempio, no? Cioè, anche il percettivo, se è molto ben deciso, sembra giudicante. Ma quando però, diciamo, è proprio proiettato su una cosa piuttosto che un'altra. Quindi, allo stesso modo, anche il giudice, diciamo, il giudicante utilizzerà una modalità più lenta, se, che ne so, deve prendere la decisione fondamentale della sua vita e non ha le idee chiare. Questo è ovvio. Però, tendenzialmente, per capire qual è la modalità predominante, è utile osservare l'atteggiamento delle persone di fronte alle scelte di basso valore, di basso impatto. che cinema andiamo a vedere stasera? In quale ristorante andiamo a mangiare? Andiamo al cinema o andiamo, che ne so, a ballare, per dire, no? Quindi scelte di poco valore, di basso impatto, vediamo che questa differenza emerge molto di più. Il giudice ha bisogno di fare una scelta in fretta, ha bisogno i giudici amano pianificare, si danno valore alle regole, sono propense a rispettare la gerchia e le autorità, apprezzano l'ordine, gli piace essere, come possiamo dire, gli piace essere organizzati, produttivi, sono razionali, molto razionali, ma non razionali nelle scelte, intendo. Hanno una mente, come dire, predisposta all'ordine, no? Alla schedulazione. Come dire, mentre, ad esempio, se devono buttare via delle cose del guardaroba, prendono e buttano, non è che stanno lì a pensare, mentre, per fare un esempio, cambio di stagione, il percettivo starà sempre lì a chiedere se magari questo potrebbe servirmi, questo lo butto, questo lo tengo, cosa faccio? Anche il tempo libero. I giudici lo usano talvolta in modo più produttivo, no? Però il problema dei giudici è che possono talvolta fare delle scelte troppo rapide e quindi la via di mezzo è sempre, come diceva Betty, è sempre la cosa migliore. Però bisogna imparare, diciamo, quindi a osservare, perché anche nella seduzione poi è molto importante, è ricalcare questo modello. È fondamentale ricalcare questo modello, perché se non ricalchi il modello rischi di essere giudicato negativamente dagli altre persone. Quindi nella seduzione è fondamentale. Poi ci sono altre cose, questo è interessante, anche le domande chiave poi per capire come fare, sono interessanti, ma questo lasceremo all'argomento, diciamo, della prossima volta, che parleremo, ultimeremo questa parte.